Come un anno fa, il Barletta inizia il suo cammino in campionato con una sconfitta in Campania. A settembre del 2022 fu 2-0 per mano del Gladiator, questa volta 1-0 al Torre di Pagani, in un pomeriggio che ha esibito due volti della stessa squadra. Timida e friabile nel primo tempo, arrembante e vicina al pareggio più volte nel secondo. Le formazioni, tre novità per Ginestra rispetto alla partita di Coppa contro il Bitonto. Coperta corta in difesa dove Milella si fa preferire a Bramati e mancano Silvestri e Lobosco. A centrocampo fiducia a Venanzio Perrizzo, in attacco a guidare il 3-5-2 Cengomme, non russo, accanto a Di Piazza. Paganese disposta con il 4-3-3 da Agovino, Defeo a destra e la novità in difesa. Orefice in riferimento nel tridente completato da Mancino e Porzio. Barletta in costante difficoltà a sinistra dalle prime battute. Al sesto, l'inserimento di Del Gesso prova a premiare Porzio, diagonale di Schelotto, che evita guai. Il capitano bianco-rosso è il primo ad attivarsi in fase offensiva. Va al cross da destra, ma non trova l'impatto dei compagni in area. All'undicesimo passa in vantaggio la Paganese. Errore di Milella in fase di impostazione. Coquen strappa il pallone al 2, triangola con Orefice e completa lo scambio in area. Destro forte, che passa sotto le gambe di Sapri e vale l'1-0. Reazione bianco-rossa guidata da Schelotto. Il capitano crossa da destra, ma il pallone è già oltre la linea, secondo l'assistente Brizzi. A nulla vale il sinistro al volo in rete di Venanzio. Rischia tanto il Barletta in fase di impostazione. Su un pallone perso da Milella, Coquen allarga a destra per Mancino, che prende la mira e calcia dai 20 metri. Sapri ci mette i guantoni e chiude in angolo. La prima frazione si chiude con una protesta per parte. Prima viene ammonito Orefice per simulazione dopo un impatto con la Cassia in area bianco-rossa. Poi reclama anche il Barletta. Venanzio al crosta sinistra, De Feo ribatte con un braccio per la squadra ospite, con il petto per l'arbitro Colelli. Dagli spogliatoi la Paganese riemerge con gli Annone per l'infortunato Mancino. Serie di occasioni per il pari per la squadra di Ginestra. La inaugura Marco Nato su punizione con il sinistro. Pinestro è bravo a volare e deviare in corner. Marsili per schelotto poi dalla bandierina, zuccata, al lato di pochi centimetri. Al 56esimo sfiora il gol della domenica di piazza, che colpisce in semi rovesciata su invito di Marsili su corner. Pallone che sfiora la traversa, Pinestro battuto. Allora di gioco, ecco anche il tentativo di Marsili su punizione diretta. I guantoni del portiere avversario a dire di no. Ginestra prova a intervenire dalla panchina con sfrecolo e russo per Venanzio e Ngom. Poi toccherà anche a Cafanni e Caputo. Su cross da sinistra di Padovano, proprio Caputo non trova la zampata vincente in area. Poi l'ex attaccante della team Altamura scambia il volo con schelotto e si produce in una semi rovesciata, bella ma controllata da Pinestro. Altri due tentativi griffati Caputo nel finale. Prima calcia dai 20 metri con il destro e il portiere blocca in presa bassa. Poi colpisce di testa su cross di Marsili con Pinestro che lascia scorrere sul fondo. Nei cinque minuti di recupero la Paganese terrà il Barletta lontano dalla sua area e festeggerà l'1-0. Finale con i 150 tifosi bianco-rossi che chiedono altri innesti. Messaggi con la dirigenza con vista su un calciomercato aperto fino al 15 settembre.